Per me è pazzo che ha un'azienda e non usa il social, perché devo essere criticata? No, è assurdo, guarda No, comunque è una rottura di coglioni, veramente Si sta rovinando l'intervista No, guarda, scusami, cioè, non voglio sembrare maleducato Quando a volte dici vorrei essere una mosca Cioè, io quando andavo dal cinese e mi mettevo la pellicola, non è che dicevo, va sembra nuovo Con me succede È vero, si può dire che te sei l'unica italiana che ha rubato il lavoro ai cinesi Cioè, non è mai successo assai Curulantia! Oh, curulantia Il tuo podcast preferito? Certo Ma non ne frega niente Curulantia! Curulantia, ma va a cagare! Eppure questo podcast spacca Ascolta, curulantia! Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di Curulantia! Oggi insieme a noi abbiamo, ladies and gentlemen, diamo il benvenuto a New Martina Ciao a tutti Ciao, ciao, ciao Vai, vai Ciao, Carmen! Sì, ora sì Prima domanda proprio così che mi viene... perché New Martina? Perché il negozio già si chiamava così Ah, prima Siamo l'unica donna a lavorare inizialmente Tutti... Ma c'è una Martina? C'è una Martina e la sorella di mio padre Salutiamo Martina, allora Ciao Martina Ciao Martina Ma perché New prima di Martina? Allora, perché ci fu una ristrutturazione al negozio anni fa E quindi se mi sei il New Ah, ok Ok, ok Toff Senti, come vuoi che ti chiamo io però? Come vuoi? No, dimmelo te, dai Vai, è uguale come ti trovo Ti chiamo Martina Martina? Vabbè È uguale, tanto mi giro in entrambi i casi Senti Martina, come ti definiresti? Sei imprenditrice, content creator, tiktoker? Chi è New Martina? New Martina è un'influencer ma di se stessa Del suo appunto prodotto, del suo marchio E penso che col tempo sto riuscendo a diventare una piccola imprenditrice Ma influencer di te stessa perché non sponsorizzi i prodotti altrui? No, al momento no E per quale motivo? Eh, ho scelto appunto di non sponsorizzare nessuno Comunque il mio business ce l'ho Ed è quello che conta, la cosa più importante E anche perché comunque le persone sono abituate a vedermi Facendo questa cosa Quindi al momento non mi sento pronta a cambiare E quello che è importante per me è il mio core business Quindi penso a fare solo quello al meglio Cioè è onorevole comunque perché con tutti i follower che hai Stai lasciando tanti, tanti soldi Cioè tanti soldi sul tavolo Sì, tante Quanti follower hai adesso? Su TikTok 7 milioni e mezzo Su Instagram 320 mila Mamma mia, cosa sembra avere 7 milioni e mezzo di follower? Un decimo di tutta Italia Stai chiedendo alla persona Io la vivo proprio in modo normale Che li ha però non se ne rende conto Quindi lo vivo proprio Vivo tutto questo in modo molto normale È una notifica che dura 24 ore tipo Sì Con notifiche in continuazione Lo vivo in modo molto normale Ecco perché faccio sempre la stessa vita Lavoro tutti i giorni Ci sono per le persone come c'ero all'inizio Quindi per me non è cambiato nulla alla fine È aumentato il lavoro ed è questo quello che mi fa piacere Senti Martina Noi ti conosciamo tutti Tutta Italia ormai ti conosce Perché sei veramente Ormai sei un personaggio molto molto noto Per quello che fai appunto Per il tuo business eccetera eccetera A me oggi piacerebbe invece Prima poi di passare anche al lato business Perché comunque lo faremo Capire un attimo chi è veramente Martina Entrare un po' più nella tua persona Raccontaci un po' Che tipo di persona sei Com'è stata la tua infanzia Da dove vieni Come sei diventata quella che sei oggi Allora in primis mi chiamo Carmen Momento casa dei bianco e nero In primis mi chiamo Carmen Quindi non Martina E ho 25 anni Metà delle persone a casa hanno detto Come? No no vabbè si sa si sa È girata la voce Sì ho 25 anni Sono nata e cresciuta a Napoli La mia città che amo tantissimo E niente vivo in questa famiglia Di sei persone I miei genitori Tre fratelli Sono una persona molto solare Suberante Sei l'unica figlia femmina? La seconda No c'ho una sorella E due fratelli maschi Ok ma loro non lavorano insieme a te Mia sorella e mio fratello sì Ah ok però insomma Sei solo te che si vede io Sì sì Mia sorella ogni tanto Ok 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 Quindi a volte cerco di spingere anche lei Però è molto timida Quindi dice no non lo voglio fare No vieni fai il video Ok Perché è comodo comunque Avere una mini sosia Ah vero ho visto un po' di video Con tua sorella Ogni tanto sì Cerco di spingere anche lei Perché mi fa piacere comunque condividere con loro tutto questo Poi mia sorella per me è bellissima quindi Deve stare accanto a me in questa avventura Solo che lei è timida ma Ci riuscirò Ci riuscirò E il negozio quando è che hai cominciato? E come mai? C'era già no? Mi avevi detto Il negozio c'era già perché di mio padre Ormai ha 30 anni il negozio Mio padre è sempre stato in questo campo Sempre è stato molto bravo in questo campo Era un negozio di telefonia Lui trattava sia l'ingrosso che il dettaglio Il dettaglio si è iniziato a fare un po' di più appunto Quando sono andata a lavorare io Perché il lato ingrosso non mi piaceva Quindi ho iniziato a lavorare al dettaglio E odiavo vendere i telefoni Sì Mamma mia ragazzi Ma facendo un passo indietro Quando proprio eri piccola Andavi già comunque in negozio Certo Già ero molto tecnologica Qualsiasi cosa Io avevo tutto Cioè usciva che ne so Il videogioco ce l'avevo Il telefono ce l'avevo Avevo tutto Quindi sono molto brava e pratica Con queste cose Perché sono cresciuta proprio così Con l'elettronica Ogni novità era presente Quindi è stato molto bello Poi ecco da piccola andavo in negozio da papà Lo andavo a trovare Passavo le giornate Soprattutto anche il periodo natalizio Perché andavo a dare una mano anche a mamma Perché mio padre lavorava tantissimo E sono cresciuta così comunque Nel mondo dell'elettronica Ma te Prima di diventare famosa Cosa volevi fare da grande? Cioè qual era il tuo sogno? Allora io ero ballerina Sei anni fa Di che ballerina danzata? Ballavo tutto Ah ok Ero anche molto brava Era la mia passione più grande Lo è ancora Però ecco È un sogno che è rimasto nel cassetto Ok Poi Si diventa adulti Cioè hai smesso quando sei diventata famosa O già prima quando lavoravi? Già prima Perché poi ho iniziato a lavorare nel negozio di mio padre Appunto un sogno è rimasto nel cassetto Perché si diventa adulti E bisogna prendere poi delle scelte Io ho sempre pensato in grande per me Non mi sono mai fermata Quindi ho detto Faccio questo Riuscirò a fare questo E lo farò in grande Non in modo anonimo Ok Perché comunque era un mio obiettivo Arrivare a fare qualcosa E non restare un negozio anonimo Che vende telefoni Però sai Cioè Quanti negozi ci sono che vendono telefoni? Tanti Però Napoli è pieno Appunto Come sei riuscita A far emergere una cosa che Se non c'eri te Sono sincero Non avrei mai pensato Che qualcuno potesse Far diventare così popolare Una roba che è Veramente All'ordine del giorno Che hanno veramente Chiacchiunque E che è anche Solitamente Una roba a basso costo Perché capito Allora Diciamo che Ho iniziato Ad usare social Proprio all'inizio Che sono andata al negozio Quindi ti sto parlando L'anno prima del covid L'anno prima del covid Tu hai completato Hai fatto gli studi Che studi Hai fatto Non ho finito gli studi Ok Eh no Infatti Siccome Prima mi hai detto L'età che hai Insomma Per l'avventura Che stai facendo Il percorso dove sei Hai fatto Non ho finito gli studi Cosa sbagliatissima Però Sono sempre stata Molto ribelle Quindi non riuscivo Ad andare a scuola E seguire E seguire Sei bocciata Anche 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 Qualche volta è capitato Succede È capitato Ma non avevo proprio voglia Certo Vorrei tornare indietro nel tempo Perché è importante È cultura È anche Rispettare la cosa che stai facendo No La scuola ti insegna questo Però Non riuscivo proprio Ad andare a scuola A fare Quelle cose A studiare A mantenere quell'impegno Non lo so perché E quindi Lascio la scuola Ando a studiare estetica Una cosa Comunque Una delle mie passioni Una cosa mi piace tanto fare Ovviamente Abbandono anche quello Continuo con la danza Lascio la danza Malincuore Perché comunque Dovevo accontentarmi E non volevo accontentarmi Quindi ho detto Ora inizio a lavorare sul serio E vado nel negozio di mio padre Poi domani Chi lo sa A quel punto Quando entri Per la prima volta Nel negozio di tuo padre Quanti anni avevi? Quanti anni avevo? 20 O 20 O 21 Ok Quindi proprio Prima esperienza lavorativa Comunque subito lì Essenzialmente Non hai mai fatto altro Ho fatto qualche lavoretto Sempre inerente alla danza Nel senso ho insegnato Queste cose qui Però non ho mai lavorato Ho iniziato da mio padre Proprio seriamente Comunque ho insegnato danza Ma nemmeno un annetto Alla fine Ecco sempre perché Quando non ti piace Una cosa che non è come dici tu Non la riesci a fare E quindi Si non la senti tua No E quindi inizi a lavorare Da mio padre E iniziai col social Cioè tu hai chiesto Tipo Sei andata a lavorare Da tuo padre Perché in quel momento Era la scelta un pochino più semplice Più veloce da fare Era la più semplice Però era anche una cosa mia Di famiglia Quindi domani sarebbe stato mio Poi c'era mio fratello Che lavorava già Quindi avevo una spalla Mio padre Mio padre non credeva tanto in me Quindi mio fratello mi disse O vieni a lavorare E fai la persona seria Oppure non vieni proprio In che senso non credeva in te? Non credeva in me Perché io Ecco prima faccio una cosa Però non lo voglio fare più Ah ok Perché hai lasciato un po' tutto Un po' tutto così E sapeva che comunque Questo non era il lavoro Della mia vita Non era quello che io sognavo di fare Quindi ci sta che dici Mo' vieni a lavorare Vabbè ci sta passare spesso A vent'anni La maggior parte delle persone Non sa cosa fare È normale Esplori un po' Sì esatto Più che altro Ti stavi sperimentando In quel momento alcune cose Alla fine Quello è l'unico modo Per capire cosa ti piace Infatti alla fine Non era il lavoro in sé per sé Che a me piaceva Era stare davanti al telefono E vendere prodotti È quello che a me piace fare Quindi Sono andato a lavorare Ho aperto i social E ho iniziato a sponsorizzare I prodotti Tu avevi delle basi di marketing Quando hai iniziato Cioè Totalmente a caso Cioè te il primo video L'hai postato con un obiettivo L'obiettivo mio era quello di lavorare Di aumentare le vendite sul sito Di aumentare le vendite al negozio Di far capire a tutti Che il mio prodotto era il migliore Perché in primis ci credo Certo Scusa se ti interrompo Però quando guardiamo il tuo video Almeno io Quando guardo i tuoi video Mi sembra che ci sia uno studio Molto approfondito dietro quel video Perché comunque si parla Di una asmr Eh ma sono sempre stati così Comunque I primi 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 Quando non si conoscevano Non sono stati studiati Ma nemmeno oggi Lo studio è arrivato dopo Ma tramite le persone Secondo me si può dire Che c'è la genialità Anche se è un caso Però comunque erano geniali Perché comunque Cioè secondo me Si è andato a bucare Proprio quello che è L'algoritmo di TikTok Capito? A parte che pubblicavo Tantissimo Inizialmente O pubblicavo 30 40 video al giorno Ero super presente Su TikTok Ora non riesco più Però comunque pubblicavo 30 Cioè vuoi o non vuoi Uscivone per te E tu quando Cioè quando glielo spiegavi A tuo padre No? Cioè lui sapeva Che tramite questo Si potevano amplificare Le vendite Allora quando hai iniziato Ti parlo Proprio all'inizio Che andai a lavorare Quindi prima del covid Iniziai con Instagram E mio padre all'inizio Non capiva L'importanza del social Io e mio fratello Invece ci credevamo tanto Ovviamente poi Facendo questo Io già lì Andavo molto bene E vedendo questo Vedendo che comunque Aumentava il lavoro Io e la mia passione Per le cover Ci è sempre stata Quindi ho sempre amato Vendere prodotti Di poco costo Nel senso Accessibile a tutti Hai più possibilità Di avere più persone In negozio E più compraturi Quindi rispetto al telefono Avevo più facilità Nel vendere queste cose qua Sì certo E lui appunto Vedeva Inizia a vedere Il cambiamento Cioè era quella cosa Per un annetto Sono andata bene così Periodo covid Come erano Io non ti seguivo A quei tempi E ammetto l'ignoranza In questo momento Come erano i video A quei tempi Cosa facevi Video erano storie Storie su Instagram Ok La mattina Andavo al lavoro Che cosa era Il telefono Facevo la vendita Del telefono Che cosa era La piastra per i capelli Provavo la piastra per i capelli La facevo vedere al cliente Facevo capire al cliente La sensazione Di avere quella Piastra per i capelli Un prodotto Un prodotto che costa poco Però ti può sempre servire Quindi tu lo devi avere E il cliente sentiva Il bisogno di avere Quel prodotto Quindi lo veniva Ad acquistare da me La cover è la pellicola Prendi il prodotto Testa il prodotto Fallo vedere Fai capire al cliente Il tuo prodotto non è come quello che vai a prendere con 5 euro dal cinese Perché in primis io ci credevo Cioè ci credo ancora E a un certo punto mi fermo Ho questo blocco Mi fermo per due anni Ti fermi per due anni? Nel negozio c'era solo la presenza Ma non c'ero io Ma un secondo I tuoi video erano già virali? Però su Instagram Ebbi un buon riscontro Inizialmente Oppure a periodo Covid Ebbi un buon riscontro Avevo tipo 10.000 follower Però vendevo Vendevo E già vedevi comunque i risultati nel tuo negozio Quando mi esponevo Quando mi facevo vedere Quando facevo la mia televendita Perché all'epoca così la chiamavo Inizia proprio la mattina Partiamo con le televendite di Martina Quindi iniziavo a fare questi video Già il tuo format Già c'era Avevamo proprio Tipo le televisioni Mi stendevo sulle televisioni Facevo di tutto Tutto in modo divertente e semplice Ma ti credo Hai mai provato inizialmente Proprio quando facevi i tuoi primi video Un po' di vergogno e imbarazzo Perché sai Tante persone Quando devono metterci la propria faccia Specialmente per vendere un qualcosa Si sentono un attimo Inizialmente Ora ma dopo tutta l'esperienza che hai Non mai Perché io appena ho il telefono davanti Cambio Proprio ti piace Parto Quindi questo è anche un po' carattere I video non li ripeto Non li taglio Non li metto naturali così come sono Metto il telefono avanti E vai Parto Macchinetta Parlo sempre Senza pensare mai a quello che potrebbe essere Il giudizio di chi ti guarda Non mi interessa Cioè chi può pensare Questa è stupida Io non lo farei mai Chi Ognuno è libero di pensare a ciò che vuole Però Quello che conta sono i risultati E i risultati li ho sempre ottenuti Avendo questo mio modo di fare Quindi in un modo Anche oggi Ho 7 milioni di follower Faccio video a volte dove posso sembrare ridicola Però a me diverte Dai anche quel momento Dispensieratezza all'utente che ti sta guardando Quindi perché sembrare ridicola Se poi alla fine mi frutta in tutti i sensi Certo Poi i numeri parlano Poi scusa se ti ho interrotto Hai detto che Ti sei fermata Ti sei fermata Per quale motivo? Ho avuto un blocco mio personale Non riuscivo più a vedermi davanti al telefono Facevo un video e non mi sentivo adatta Facevo una qualsiasi cosa Non mi sentivo proprio più Ma era dovuto a dei commenti negativi? No no Era dovuto proprio da me Era una cosa che era partita da me Mi fermai totalmente Due anni Facevo il video per farlo Ma non trasmettevi più alle persone la stessa cosa Perché non c'era più quella naturalezza Quella voglia di fare Che c'era inizialmente Cioè era diventata una cosa forzata Se arrivavano gli ordini Non spedivo più Quando avevo soldi indietro dal cliente Mi rifiutavo proprio No Tipo uno stato depressivo Possiamo dire Molto Secondo me sì lo è stato Però poi a un certo punto Settembre 2023 Torno Inizio con TikTok Bang TikTok già ce l'avevo Pubblicavo tipo un video all'anno Vedi all'anno Mentre spiegava il prodotto al cliente Andavano virali sempre Settembre 2022 23 Infatti io pensavo da più tempo pubblicare No 22 23 ore Tre mesi fa Sì 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 Scusami 2022 No infatti Pardonami No cazzo perché ho detto Ho detto cazzo Tre mesi già Oh fenomeno Pardonami Due negozi aperti No 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 Settembre 2022 Quando pubblicavo sporadicamente su TikTok Anche durante quegli anni I video andavano virali Automaticamente mi portavano Più follower su Instagram E più vendite Online Quindi dissi Devo recuperare tutto quello che non ho fatto in questi due anni L'unico modo è TikTok Ha un algoritmo molto veloce Quindi se inizio a pubblicare i video che ho fatto ogni tanto Però tutti i giorni Non abbandonando Instagram Posso prendere più persone E più compratori Quindi iniziai Mettevo il telefono C'avevo Quei cosi di plexiglass Per il covid C'avevo davanti al bancone Quindi poggiavo il telefono là Precisi perché Avevano l'altezza giusta Sì sì Con le cose delle poste Così Mettevo il telefono là Entrava il cliente Buongiorno Che facciamo? Volete questo telefono? Oppure la pellicola? E la cosa che ha colpito di più a tutti È stata la pellicola e la cover Perché era la cosa che mi piaceva fare di più Proprio dare quell'aspetto nuovo al telefono Vedere la faccia del cliente Soddisfatto Cioè io quando andavo dal cinese E mi mettevo la pellicola Non è che dicevo Sembra nuovo Con me succede Cambia proprio aspetto il telefono Dici mamma mia Il mio telefono C'è l'impronta di New Martina È vero Si può dire che te sei l'unica italiana Che ha rubato il lavoro ai cinesi Non è mai successo Di solito è il contrario Salutiamo i cinesi Con grande affetto E quindi è nata questa cosa Poi faccio questo video Non nemmeno da questo video Già da prima Inizio a pubblicare 20-30 video al giorno Scusami eh Curiosità mia Ti interrompo Vai Facci la beso Fatevi le domande Vai Ma questa è una cosa Mi interessa a me Quando pubblicavi 20-30 video Non ti andavano tutti virali Qual era la media più o meno Di quei video Ma guarda All'inizio 50.000 visualizzazioni 100.000 Tutti e 20-30 Perdo Completamente Non avevi rispettato qualche regola Ah non lo so Non l'ho mai capito Perché account vecchio Quindi password vecchie Mille vecchie Non mi ricordavo niente Quindi perdo l'account completamente Comunque è assurdo TikTok A tanti creator succede questa cosa È un modo per testare il creator Nel senso Per vedere la forza del creator Vogliono vedere la forza del creator Cioè quello che lo recupera E quello che lo perde Ne deve fare un altro Quando ne fai un altro Parti da zero No però volevo fare un attimo di chiarezza Perché se no magari Non si capisce questo passaggio Che vuol dire Cioè password vecchio Profilo vecchio Ma non li potevi recuperare Tipo con le email Eh no non mi ricordavo niente Né che mail avevo Niente password Niente Quindi sei ripartita Sì ragazzi io volevo morire Però secondo me Non è proprio ripartire da zero Perché dicono che TikTok Riconosce un po' la faccia Riconosce però Comunque quei follower Che avevi li puoi perdere Nel senso Metti il video Ragazzi mi hanno bloccato l'account Mi seguite All'altra parte Dice ma che vuole questa Perché a me è capitato Sinceramente Quindi il mio problema Era quello E direi anche Ci ho messo Da settembre a gennaio Per fare 100.000 Ma quando li rifaccio Hai ragione Invece non è stato così Boom 7 milioni Non è stato così 100.000 l'ha fatto in tre giorni E un milione in un mese Un milione in un mese Bella Ogni due settimane I milioni salivano e crescevano Tu hai un video Tra l'altro Che ha raggiunto Il mezzo miliardo Di views Prima ASMR Il primo ASMR Ma ti posso dire Se vuoi non rispondere Per curiosità Quanto ti paga TikTok Per un video Da 500 milioni Io non prendo soldi Io non prendo soldi da TikTok Boh E a te che stai Come mai non li prendi I soldi li prendono Gli account creator Io sono un account business Poiché il mio account Veniva sempre segnalato Per colpa di questa cosa Passo all'account business Cioè i soldi che prendi Sono quelli delle live Che ho Quando arriva una somma Li dono Vado a donare Quindi non mi servono a me Li uso per donare Alla fine Sono somme non esorbitanti Tipo Quando è stato? Luglio Sono andata Al Santo Bonopo Sillipon di Napoli E ho donato ai bambini Prossimamente Farò un'altra cosa Brava Questo ti fa un orico Una domanda Ma nel caso in cui Tu prendessi i soldi Sai mica quanto ti pagherebbe Per un video da mezzo miliardo? Guarda Tutti dicono Ti paga 4 centesimi Ogni mille visualizzazioni Non è vero Perché Dipende 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 dal video Delle interazioni Tutto un calcolo Sempre Non sei la prima persona Che intervistiamo È monetizzabile Un video soltanto Da una durata in su Non tutti i video Sono monetizzabili Un calcolo Se non sbaglio Se non sbaglio Dovrebbe essere Poco più di un centesimo A visualizzazione Dipende dal video Dipende E i video Che superano Un minuto Di durata Possono essere monetizzati Controllate Ma dovrebbe essere Non lo sa più Sì 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 Comunque non sei la prima persona Che intervistiamo Che ci dice Che non riceve Monetizzazione Cioè ma perché Se hai l'account creator E monetizzi Hai più problemi Poi con tiktok Non lo so Io penso di sì Ti ho detto Io poi da subito Quando ho fatto Il nuovo contatto L'ho passato subito A business Quindi non lo so Però secondo me A un certo punto Quando vedono Che prendi 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 È assurdo È assurdo Perché comunque Un creator Cioè tiktoker Non lo so È un mio pensiero Ce lo disse anche Un altro ospite Che venne qua Che fu il grande sbanca Che anche a lui Successa una cosa Molto simile E sospettava Un complotto Più o meno Come pensi tu Secondo me sì Comunque vabbè Ho ripreso il secondo account Poi esplode Questo account Ad oggi hai Sette milioni e mezzo Di follower Quindi in continua crescita Immagino Sì Quanti di follower hai Adesso al giorno Lo sai Dipende dalla giornata Sono giorni dove Prendo pure 20.000 follower Giorni dove ne prendo 3.000 Dipende Quanto pubblico E come pubblico E cosa pubblico Adesso E con che frequenza Stai pubblicando In questo momento Due o tre video al giorno Ah vabbè Comunque sei rimasta Però capitano anche giorni Che mi fermo Perché non ho tempo Ok Ma quando hai fatto Un milione di follower In un mese Qual è stato poi Il riscontro sul negozio Perché immagino Che sia iniziato A arrivare un sacco di gente Ma già da prima Del milione Ah Un giorno avevo 50 persone Che entravano Il giorno dopo Veramente La capi giuro Il giorno dopo File chilometriche E persone da ogni dove Che dovevano venire Nel mio negozio A cambiare la cover E la pellicola Che cosa provavi Quando vedevi La fila chilometrica E arrivai la sera Mi ricordo La prima sera E feci pure il video Io piangevo Ero emozionatissima Queste persone Stanno qua per me Mamma mia Poi hai paura Che finisce Hai paura Che Non è facile Hai qualche aneddoto Da raccontarci Di qualche persona Che magari Sei rimasta un po' Impressa Qualche cliente Particolare Non lo so Qualche Sono tutti Tutti quanti Alla fine Fanno le stesse domande Dicono le stesse cose Perché il cliente Comunque il turista Quindi il turista Quando viene Ecco Come sta andando Come stai Le cose che ti ricordi di più Sono le persone Che vengono nel tuo negozio Vengono a comprare E ti criticano E succede Quali sono le critiche principali? Che fai? E come mai? Perché? Allora vado in bagno Faccio i video Mentre vado in bagno Divento famoso anch'io E fallo Vai E così Questa signora venne Comprò Non era nemmeno napoletana Mi disse Allora vado in bagno Faccio i video Che vado in bagno Divento famosa anch'io Che poi I più stransi Sono quelli grandi Provaci Provaci Quindi io ne dico Un po' Infatti te cosa risponderesti A chi ti critica Dicendo Lei è diventata famosa Mettendo solamente Delle pellicole Io penso che sia bravura Ma lascia Ci vuole anche Il pizzico di fortuna Non lo metto in dubbio Però penso che sia bravura Su TikTok ci siamo tutti Tutti facciamo i video Perché non tutti Diventano famosi Perché non tutti Ma nemmeno Non ti voglio parlare Nemmeno di fama Non tutti riescono a fare Totto follower Come cabbi Quanti ce ne sono come cabbi? Uno Cabbi Uno Cabbi Quanti di loro Fanno i video in silenzio Come cabbi? Chi è diventato cabbi? Cabbi Sì 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 Nessuno Quanti di Martina Sono usciti? Tantissimi Sì poi Ora escono Escono adesso In tutte le salse In tutte le nicchie Ovviamente C'è qualcuno che emerge Di più rispetto a un altro Però C'è quella persona Che ti dà quella cosa in più Io penso che Attraverso il telefono Io riesco a trasmettere Alle persone Una qualsiasi cosa Anche se mi guardo Riesco a trasmettere Che è tutto vero Cioè sono reale E non tutti Sanno esserlo Dietro a un telefono Com'è stata Martina L'evoluzione dei tuoi video Cioè Tu inizi Ovviamente facevi dei video Non elaborati Facevi vedere il tuo lavoro Ad oggi Cos'è che va di più? Allora I video sono sempre gli stessi Non ho mai abbandonato Il mio format Quindi Ciao Cosa ti serve? Pellicola lucida Paco Vabbè Gli ASMR Sono sempre quelli Che vanno di più Perché diventano internazionali Perché non c'è lingua E quindi Non mi sono snaturata Sono rimasta sempre la stessa Quindi i video Sono tutti uguali Come pubblicarli Cioè oggi Un ASMR Domani no? No 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 Tutti i giorni L'ASMR Tutti i giorni Tutti i giorni Ma sì Ma tipo Quel litro di spray Che metti nel telefono Lo fai perché Vedi che funziona nel video O perché serve davvero Nel video piace Però a volte C'è bisogno di un litro di spray Perché sono incrostati i telefoni Però è una cosa Che ti cattura parecchio Quando metti tutto Nello spray Rilassa Sì è bello Il suono Guarda io Ti dico questo Un paio di mesi fa Vidi un Non ricordo se era un giornalista Insomma Una persona comunque Del web Che stava analizzando I tre content creator Più forti del momento Su TikTok E parlava di Donato Antico Vinaio E te E diceva che Stava cercando di capire Qual era il comune denominatore Che pompasse così tanto Voi no? E alla fine Per lui Per questa persona Era appunto La produzione La preparazione Del prodotto Che avete tra le mani No? Da zero A prodotto finito Entrambi La caratteristica Sia Donato Col panino Antico Vinaio Con la focaccia Fate Mostrate un prodotto Che in quel momento Non è completo Fino alla sua completezza Sì rientra nella categoria Satisfying Bravissimo Sì perché comunque La cosa che piace Alle persone Ad oggi È vedere una cosa reale Nel senso A me capita Brava È capitato Di fare video Dove non riuscivo A mettere la pellicola E quei video Sono diventati famosissimi Perché la persona Vede proprio La difficoltà Che tu hai Nel mettere il prodotto Non è perfetto Che fai il video tagliato Che metti la pellicola No Il mio video Non viene tagliato Non viene snaturato E Viene fatto dalla Alla Z In tutta la preparazione Del prodotto Nell'applicazione Quindi al cliente Piace anche vedere quello Se io ci metto due secondi A mettere la pellicola Il cliente Dall'altra parte Compra la pellicola Perché dice Ci ha messo due secondi Perché è una cosa facile Non è difficile da fare Sembra La facciamo diventare difficile Ma non è difficile Tu ovviamente L'applicazione La fai pagare Con un supplemento Ma quando mai No No Assolutamente C'è chi lo fa Ma io no Eh brava Sono 30 più 5 di applicazione No È vero A me che ha vinto C'è chi c'hanno Veramente Raga Sai oggi te Te lo potresti proprio permettere No vabbè Ma non mi permetterei mai No comunque Ti fa Il cliente paga il prodotto L'applicazione Ci costa C'è ma quando mai Senti il fatto che sei Hai detto Sei molto felice Di che hai tanta gente Che sta arrivando Che viene nel tuo negozio Per te Ma ci pensi mai che Spesso e volentieri Magari non vengono Proprio per il prodotto Ma vengono solo ed esclusivamente Per te E questo ovviamente È una cosa bella Come hai detto Però può essere un problema Quando decidi di aprire Più punti vendita Perché una persona Può arrivare Nel negozio di New Martina Per vedere New Martina Però New Martina Magari in un altro punto vendita No Non so come Che ne pensi Questa era la mia paura Prima di aprire Bologna Poi ecco Basta testare le cose Quando ho aperto a Bologna Avevo fiumi di persone a Bologna E fiumi di persone a Napoli Quindi È passata anche questa cosa La persona Le persone tornano Perché adorano il prodotto E Anche andare nel negozio Di New Martina Ormai è bello Cioè i bambini Me lo disse mia sorella Venivano elettrizzati Lo sapevano che non c'eri Però venivano elettrizzati Solo al pensiero di stare là Certo No no perché Questo può essere sempre un problema Quando si lavora con un personal brand No quindi con la faccia Che può dare un'esplosione vertiginosa Quindi un aumento del fatturato Pazzesco immediato Però poi Quel fatturato è legato Al volto Di questa persona È bello Era una paura Però fortunatamente Va bene in entrambi i casi Ormai è anche il prodotto Che è importante Senti Martina Tra le tante cose Un'altra cosa fondamentale Dell'esplosione di un personaggio Come il tuo È la possibilità di fare un network Molto importante Hai cambiato Pellicole e cover A personaggi famosissimi Tipo Allora Tipo Cassano Totti Insigne Calciatori Calciatori Poi 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 Luisa Ranieri Il marito di Luisa Ranieri Alcuni tiktoker Anche forti Poi A breve A breve ne martinizzerò altri Non dico chi Il numero più importante Che hai in rubrica Il più prezioso Qual è? Il numero più importante Che in rubrica Se lo vuoi dire Lo sai non lo so Non mi ricordo Ah beh I numeri di solito Non li prendo mai io Li prende mio fratello Li prende qualcuno Perché io a volte Non vedo Messaggi Cose varie Quindi vanno mio fratello Queste cose qua Non mi ricordo Il numero di chi In rubrica Devo vedere Non lo so Ma senti Una domanda Riguardo la vita privata No Dopo che è arrivata Tutta questa popolarità Come si è cambiata La vita privata Cioè ci sono Delle cose negative Che sono arrivate Allora La mia vita privata Non è cambiata Assolutamente Ho sempre le mie amiche Faccio sempre Le stesse cose È cambiata Perché sei sotto L'occhio di tutti Anche se non te ne rendi conto E questo è un problema Perché Io mi dimentico E in che senso? In senso Mi dimentico Che sono in Martina Io esco Nessuno mi sta guardando E in realtà Mi stanno guardando tutti E ti fermano parecchio A Napoli? No a Napoli no Ma dipende Dipende Non Non mi fermano A Napoli mi vedono sempre La mia città Per quanto è grande Comunque è piccola Noi ragazzi I luoghi che frequentiamo Alla fine sono sempre Gli stessi Quindi perché mi devono fermare Alla fine sono Normale Sono come loro Magari più fuori Sì Quando non sto a Napoli Sì No scusa Ah no no Tranquillo C'è qualche aspetto Negativo Che rimuoveresti In conseguenza Della popolarità Che è arrivata No No perché Vivo tutto In modo Normale Al momento Quindi Non vorrei Rimuovere niente Ok All'inizio Le tue amiche Erano più Contente Del tuo successo Oppure Notavi un po' Di invidia Perché sai ci può essere Assolutamente no Perché le mie amiche Sono le stesse Da vent'anni Quindi Sanno Questo non vuol dire Eh vabbè Al momento Quindi loro sanno Hanno vissuto con me Il mio momento No Sapevano Che io volevo fare qualcosa di importante Sapevano tutto Quindi quando Ad oggi Quando vedono quello che faccio Sono fiera di me Si emozionano insieme a me Sono felici per me Allora sono amiche Ecco Non è che io Le ritrovate di più ancora Perché sono New Martina Anzi In alcuni momenti Mi sono anche lamentata con loro Perché dicevo con me Ok io sto facendo questo Voi non state vicino a me E loro perché vivevano Mi vivono come Carmen appunto E sanno che sono sempre la stessa Io volevo fare un attimo Un passo indietro Carmen Ma breve Al momento in cui hai detto che Un giorno avevi 50 persone in negozio Il giorno dopo Ne avevi file di chilometri fuori Ecco lì Tuo padre? Mio padre Lì mi ha dato completa fiducia Da un giorno all'altro Il mio negozio Era privo di telefoni E stavano arrivando ordini Di cover Di cover e pellicole C'è un video che ritrae Me seduta a terra In questo sgabuzzino Che avevo sul negozio Che era dove facevamo spedizioni Facevamo tutto all'inizio Metti le pellicole Vai sopra Chiudi pacchi Non c'era persona Non c'era niente E quindi c'ho questo video Con queste 5000 cover 5000 cover E io che mi riprendo Che avevo paura Che non le vendivo Cioè avevo queste 5000 cover Mamma mia se non le vindo Mamma mia E mo Per me era un investimento grandissimo Stavo piena d'ansia Stavo male Infatti mi andavo Stavo guidando le mie amiche Mamma mia E invece alla fine Le ho vendute Poco Io sono interessato A entrare proprio anche Nel vivo Cioè nel business Vero e proprio Però non so Se tu ti occupi solo ed esclusivamente Da parte appunto Di marketing Di fare video Ma sai più o meno Su una cover Come le tue Quanto è il margine Che c'è No ragazzi Ok Era una roba che mi interessava No 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 Un'altra domanda invece Sul disco Si occupa tutto tuo padre Di questa roba Sì mio padre Pensate lo fa lui Perché comunque le cover Sono di tua proprietà No? Sì È un tuo brand Tutto marchio mio Ogni cosa E un'altra domanda Sempre parlando di business Io immagino che Quando è iniziata a arrivare Tutta questa molla di gente Voi non eravate preparati A livello di Assolutamente no È di personale Quindi quanto è aumentato Il personale Avete cambiato il negozio Avete Allora ho preso All'inizio C'era poco prodotto Io e mia sorella Mio padre Sempre Mio fratello E Che successe Ci fu un sold out Sold out Finito tutto Niente ragazzi Niente Sito chiuso per due settimane In negozio le persone venivano E si dovevano arrangiare Si arrangiavano Al massimo una foto con te No 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 Ti posso mettere questo tipo di pellicola qua Tipo con la macchina Che riuscivo a comprare anche a Napoli Quando non avevo ancora il mio marchio E le persone Qualsiasi cosa dicevano Sì Sito sold out due settimane Le persone stavano male Che non potevano acquistare dal mio sito Io non ve lo dico proprio E questo Vengono a lavorare due ragazzi al banco E sono sempre solo loro Al banco con me Si chiamano Chiara e Francesca Braccio a destra e braccio a sinistra Proprio per me Sono due sante Che mi sopportano E che amano proprio stare con noi Fare questo lavoro Dicono il negozio è mio Ho detto tutto Quindi Sono due angeli Che mi sono arrivati in questo momento Della mia vita Poi abbiamo preso qualche altra persona In logistica alle spedizioni Lì c'è mia sorella E altre due persone E Persona in ufficio con mio padre Poi altri dipendenti per Bologna In totale quindi? Quanti? Vabbè Il tuo sito web Per farti proprio un'idea Dipende dal mese Dipende dal mese Nel mese migliore? Nel mese migliore? Dai 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 Nel senso ha lasciato andare un po' Però io sono molto come lui Lui anche era un grande in ciò che faceva Sempre è stato bravissimo Molto interprendente Ad ora diciamo si è risvegliato anche lui Quel suo animo imprenditoriale Perché è un grande secondo me Ecco Grazie a lui In poco tempo Abbiamo creato Cioè nove mesi ragazzi Io ho ristrutturato un negozio a Napoli Ecco vedi infatti volevo arrivare lì Cioè grazie anche a tua Diciamo la mente dietro Che gestisce tutto È ancora tuo padre Abbiamo ristrutturato un negozio a Napoli da capo Preso personale Aperto a Bologna Ristrutturato un negozio intero a Bologna e niente Creato un marchio In nove mesi? Sì Creato un marchio Prodotti che ne arrivano Raga sono tantissimi Che subito finiscono Qua arrivano e qua finiscono Qua arrivano e qua finiscono Grande Quindi Questa cosa è stata una salvezza proprio per tutta la mia famiglia in generale Ognuno di noi Ha un suo ruolo Mia sorella per esempio Era timida Mi ricordo quando venne a lavorare al negozio Aveva paura anche di parlare col cliente Se ne andava Diceva no lo fai tu Ora no Ora sta dietro al banco Parla con il cliente Cioè siamo cambiati un po' tutti Io sono diventata più responsabile Che magari era il mio problema principale Ora ho un impegno troppo importante Non lo posso perdere E sto facendo quello che mi piace fare Quindi Io credo molto in Dio Penso che sia proprio un regalo di Dio questo Sia per me che per la mia famiglia Ma senti la responsabilità Che hai detto io Ora senti Sono diventata più responsabile Senti tanto questa pressione La mia famiglia non me la fa vivere tantissimo Nel senso Ognuno ha un suo ruolo Ognuno è importante nell'azienda Quindi Mia sorella è importante nella logistica Io sono importante per i video Mio fratello è importante con la gestione Mio padre comunque Che ci sta dietro Sta dietro un po' a tutto Non so tanto Non lo so come fa Quindi ognuno ha un suo ruolo importante La pressione che sento è quella Di non poter sbagliare Non me lo posso permettere Perché non è solo mio C'è la mia famiglia Ci sono persone a lavorare Che hanno famiglia Ragazze che stanno Investendo anche il loro tempo In questo progetto Voglio crescere Voglio dare lavoro a tanti altri ragazzi Quindi questo è il senso di responsabilità che sento Bravissima Io poi mi rispecchio santissimo nelle tue parole Ma comunque fallire non è bello Spero di non farlo mai Però immagino la sensazione No Comunque ti insegna delle cose Tutti possiamo fallire Però spero di non farlo Di impegnarmi il più possibile per non farlo Perché sarebbe proprio Una brutta botta Sia perché sono sul social esposta No ma te se ti posso dare un consiglio Non ti fermare neanche a pensare da questa cosa Non lo faccio mai Però ogni tanto ci sta che hai paura È una cosa che partita è nata velocemente Quindi mantenerla Non è facile No ti capisco perché Più che altro non è una cosa che dipende al 100% da te Cioè metti conto un giorno TikTok Ti chiude il profilo L'algoritmo non funziona più come prima Cioè mi rispetto a te Perché io fa conto vendo su Amazon Se Amazon un giorno mi chiude il negozio Io posso fare quello che mi pare Guarda non è nemmeno questo Perché a un certo punto tu ti impronti come azienda Io Noi siamo diventati un'azienda vera e propria Ora sì Siamo al pari di tante altre aziende Che ci sono da tempo ad oggi E quindi La maggior parte dell'Italia Ha provato il mio prodotto Ed è tornato ad acquistarlo Do un prodotto valido al cliente Quindi se ti devo dire che la mia paura è perdere TikTok Sì Però è un 50% So che posso rifarlo Perché questa cosa già l'ho vissuta Come vi ho detto prima Quando mi sono fermata E la mia carica è stata Io l'ho fatto Lo posso fare di nuovo Ma comunque ti stai strutturando Perché alla base c'è un prodotto Alla base c'è un'azienda Cioè hai il canale che porta il traffico all'azienda Però quando stai creando un brand Quando hai creato un brand Ok magari anche se un indomani TikTok non c'è più Però hai un brand Insomma comunque Sei riconosciuto come un buon prodotto Va avanti Cioè ormai il prodotto Armov è conosciuto Ti volevo fare una domanda A te a proposito Hai Che ne so Cioè sicuramente no No però Cioè sicuramente no perché non vuoi tu Ma c'è tanta gente magari Rivenditori che vogliono vendere il tuo marchio Il tuo brand Mi hanno chiesto collaborazioni Fare linee con il mio volto e il mio marchio Tipo facciamo la cover per New Martina Però un altro marchio che non è Armov E qualcuno che dice Tipo il media world che arriva Voglio vendere Armov E non si vende Vabbè non faccio nomi però No no ma se qualcuno magari te È capitato È rifiutato È al momento Infatti immaginavo per quello Ho detto deduco di no però Ovvio Come teori con le gallette Per sapere perché la scelta di questo rifiuto Perché comunque è sempre il tuo brand Perché Perché non era Era la mia curiosità Mettiamo Armov Per Per il nostro marchio No era col nostro marchio Tu sei il volto E quindi noi vendiamo Capito Non assolutamente no Armov è mio Io sono Armov E quindi vado per Armov Sempre Certo Perché il nome Armov Armov praticamente sarebbe Armor Solo che non era registrabile In greco vuol dire Protezione Scudo Famiglia E poiché l'azienda è di famiglia Poiché era una parola che Sentivamo un po' tutti Abbiamo deciso di mettere Armov Senti io Niu Martino mi ha portato un regalo Oggi Io farei una Aspetta cosa Fammi indovinare Delle cover Esatto Pessima stavattuta Carmen se vieni Mi devi portare Io ti dico Sì cazzo La volevo anch'io iPhone 14 Pro Max Tenuto malissimo Ho fatto i cover Si vede Ma cambia Si vede Hai detto si vede Si vede esatto Quanti ne cambierà Sono molto spietata Lo dico quando una cosa è brutta Bene brava Allora voglio Per gli amici che ci stanno ascoltando Su Spotify Si può cambiare qui? Vai vai Allora Roberto fa la trona Per i non vedenti Gli ho scoppiato Dai il telefono Voglio fare anche un video in verticale Da mettere poi Posso? Dammi lo faccio io Questo prendo io Verticale Attenzione il momento della verità Oh raga cioè Lo sto guardando davvero Sta succedendo ragazzi Guarda Martina Quei cazzo di video Mi tengono anche a me Davanti il telefono A guardare Io l'azzardo Ma si potrebbe fare Da bendata? L'ho fatto Dai si prova Facciamolo così Facciamolo così Ragazzi ora non c'ho tutti Gli strumenti che negozio Che serve? Uno spruzzino Una bottiglia d'altro Spiegaci Però l'ho fatto Ho fatto i video da bendata Che mettevo le pellicole Hai strappato una marea di cose Eh si Allora questo per pulire Ah quindi non c'è lo spray Quando non hai lo spray Usi questi sardini No Vabbè questo diciamo Il kit che ti arriva a casa Adesso sembrerà Tipo facilissimo Lo fai te? Bolle su bolle Bolle su bolle Poi ho visto Nel suo negozio Ha tipo una Piattaformina Eh ma anche la palettina Vedeva l'aria Tipo da sotto C'è anche qui C'è anche qui la palettina Vabbè quella è per dare velocità Diciamo Io all'inizio le pellicole le mettevo Senza niente Così Si bruciava il dito Infatti a volte Perché a furia di mettere pellicole Ah torna nuovo comunque Allora siamo qua Yes La cambia angolazione Così si fa tutte Per te opaca privacy Questo sarebbe Questo suono che piace Vedi La raga con microfono Mi sente proprio bene Senti la Ah opaca l'hai messa Opaca privacy Opaca privacy Quindi il pilato Non vedi Ciao Niente Adesso puoi anche Guardarti i tuoi store Senza farmi vedere Senza farti vedere Sotto Guarda guarda Eh Raga è rilassante con i microfoni Senti la Eh Te immaginate O chi lo guarda a casa No ma si sente già bene così Ora tutti Ora Bello fa quando fai con le unghie Così sul telefono Così Non l'ho mai trovati così Completo Questa è proprio la pellicola Questa è la pellicola Assurda Raga io non l'ho mai vista La pellicola così Dai ma dove vedi Ah è le fotocamere Perché Quelle Sono sempre Oddio Qua Va bene Telefono 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 Bellissimo È vero guarda Poi di lato Non vedi niente No è Privacy Come si chiama Martina Opaca privacy Opaca privacy Armon Opaca privacy Grazie mille ragazzi Guarda là Che spettacolo Io vorrei anche Un pennarello Se si può avere Dove è il pennarello Di firmi la cover dietro Esatto Voglio la fotografa qui Occhio lui la rivende poi Martina Si può dire Sì assolutamente sì E quanto costa La pellicola La pellicola 9,99 La cover 19,99 Hai il bundle Hai il bundle No non faccio il bundle Ognuno compra ciò che vuole Ah ok Non fai un'offertina Tutto insieme Dove lo posso comprare Sul tuo sito Che è www. www.toniummartino.it Vai Ci abbiamo fatto anche La call to action Per i marketer Dai Ok No C'è la tela La cover La cover La fatta In un martino No No Ragazzi no Mi dà fastidio No Mi dà fastidio Sono io Col cuore Il cuore Sono un po' geloso Il cuore sempre Situazione sentimentale Ci spoileri qualcosa Perché ci hanno Si vede su TikTok Un po' di video Con qualcuno Un po' Con qualcun altro Nessuno sa mai niente Non spoileri mai niente Dai di qualcosa Non spoilerò niente Perché non c'è niente da dire Sono Siamo molto riservata Sì Non parlo proprio Della mia vita personale Martina ti vuoi fare una domanda Una mia curiosità C'è qualcuno che ti critica Su come metti la cover Nei commenti Tipo Non devi far così Voglio capire Un attimo Ti puoi un po' il vetrino I micro cristalli Che sono caduti sullo schermo Fanno graffiare lo schermo Eh bravissima L'intenditore Volevo sapere se c'è l'intenditore Il classico fenomeno Come lunedì tutti i tennisti Martedì tutti No Sbatti troppo il telefono Io non è che sbatto il telefono C'è il telefono qua Con il microfono verso il basso Quindi automaticamente fa rumore E anche se sbatto il telefono Sotto c'ho un tappetino Che attutisce le cadute Sennò che lo mettiamo a fare E quindi ogni cosa Vengono Puntano il dito Si lamentano Che c'hanno sempre da dire Sì 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 Ma ti puoi ho graffi telefoni Le persone tornano No Chiaro Vedi con 7 milioni e mezzo Di follower su TikTok Quanti sono lovers E quanti haters Ne hai tanti Allora inizialmente Solo commenti positivi Poi è arrivata Ai 5-6 milioni Sono partiti a raffica I commenti negativi Specialmente le persone adulte Oppure giovani Della metà Uomini Che mi criticano Su ogni cosa Che faccio Genitori Che mi criticano Perché Sono diventata famosa Mettendo la cover E la pellicola E Adoro la mosca E quindi Tutte queste persone Che mi criticano Più aumenti appunto E più le persone Ti criticano E così Engagement Poi te sei Ma sento che ha anche I haters dal vivo Cioè ti hai detto Che arriva gente Anche nel negozio Che ti criticano Sì Cioè questa non l'avevo mai sentita Perché di solito I haters Ce l'hai solo online Genitore che accompagna il figlio Io non accompagnerei il mio figlio Che non capisco E arrivare A un certo livello Utilizzando una piattaforma Utilizzando il social Che oggi è il presente E il futuro Perché chi è che non usa il telefono Chi è che Per me è pazzo Che ha un'azienda E non usa il social Perché devo essere criticata Ce l'ho come la mosca No è assurdo Guarda No comunque è una rottura di coglioni Veramente Oh Si sta rovinando l'intervista No guarda scusami Non voglio sembrare maleducato Quando a volte dici Vorrei essere una mosca No basta Matteo falla fuori dai Se no non si va avanti Vai Jackie Ce l'hai in mano Ce l'hai in mano Ok salà Ah scusa No non me ne preoccupare Grazie Comunque Guarda io ti dico la verità Apprezzo comunque di più Later Dal vivo Che quelli sono da tastiera Sì sono tutti contatti fake No ma quello che diceva lei Lei è proprio specificato la categoria Il genitore che accompagna il bambino Capito Non capisce Che il bambino è felice Comunque a te come ti fa sentire Quando vedi un commento Perché poi a volte Io lo so Sono veramente cattivi In quel caso Ti infastidisce A volte ci rimango male A volte dico Sono stupida realmente A volte poi Li faccio Li faccio andare Dico comunque Grazie a loro Il mio video Sta prendendo visualizzazioni E sta crescendo La cattiva pubblicità Non esiste È sempre pubblicità E ti porta Ad avere sempre di più Quindi Per me possono criticare Possono fare quello che vogliono Ecco io non ho il tempo Di andare a criticare a qualcuno Perché sto facendo qualcosa di meglio Nella mia vita Oggi penso sono persone represse Gelose E tali rimarranno sempre Secondo me Se io Cioè penso Cioè qual è secondo me il motivo Che ci sono queste persone Come per il babbo Che dicevi Che ha studiato alla Bocconi Lavoro da ufficio Magari poi vedete Che tramite social Apri cinque negozi Hai un successo assurdo E magari loro Faticano ad arrivare a fine mese Ma non è colpa mia Esatto Non si rendono conto Magari che c'è stata La mia evoluzione Non è che le ho pagate le persone Per farmi seguire O per farle venire in negozio Esatto Se mi hanno scelto Perché forse io Nella mia vita Sono portata Per fare questo Chi magari È portato Ad essere quello O chi non fa di più Cioè sono persone Che non accettano Che il mondo è cambiato Ci sono persone Che la mattina Si svegliano Vanno a fare il loro lavoro Sono contenti Di guadagnare Tot E fanno bene Ci sono persone Che non si accontentano E trovano l'escamotaggio Per uscire da Dal Matrix Sì per me è così Per me è come C'è il ragazzo Che va all'università Perché vuole diventare Quindi studia Con quella foca Di diventare qualcuno E c'è il ragazzo Che va all'università Per perdere tempo E sta anche in quel momento Dove non sa quello Che pure dà la vita Però l'università Esiste Spesso l'università Secondo me In questi casi Non è per perdere tempo Ma è per prendere tempo Perché sei proprio Ah bravo Certo Per mantenersi Chi studi Va fuori Se ne va dalla città Nativa Va fuori Va a fare un lavoretto Per mantenersi fuori Fai quella vita Lontana dalla tua famiglia Lontana da tutto E poi alla fine Stai prendendo tempo Perché poi alla fine Rimani a fare quel lavoretto E ti sei accontentato Bravo È così Perché io sono ragazza Vedo questo E poi vedo il ragazzo Che va all'università Perché vuole diventare Medico Vuole diventare avvocato E diventa avvocato Perché i sacrifici Vengono sempre ripagati La maggior parte delle volte Se vuoi puoi Se vuoi puoi Condivido al 100% Quindi Per me chi critica E parla male Perché quello Nella vita Quello sarà Io se vedo una persona Che fa qualcosa Meglio di me Oppure Anche se non è del mio campo E mi piace Come fa quella cosa Io l'ammiro Dico voglio essere così A me tutto questo Perché è nato Perché vedevo Altri imprenditori Napoletani Che pubblicizzavano I loro prodotti Sul social Anche non pieni di follower Però mi piaceva Come facevano quella cosa Prendi spunto da uno Prendi spunto da un altro Vedi il tiktok cinese Bravissima Prima quando è Te lo volevo dire Te lo facevi prima del covid Ora lo fanno adesso No? Dove A parte In un minuto Poi tiktok è nato Anche perché vedevo Il tiktok cinese L'avete mai visto il tiktok cinese? No No Il tiktok cinese È totalmente diverso dal nostro Perché È un'altra piattaforma Che non è tiktok nostro Ah dice che in cin app Muovono Educazione Più informativi Più Live Che vendono Prodotti Come le faccio io Bravissima Prendi questo Compra questo Fai questo Fai quello Fai quello Non stai mai fermo Velocità Tu rimani così Guarda Diventò qualche mese fa L'influencer Quella cinese Che in un minuto Fece 13 milioni Sapete dice che tiktok Essendo un social media cinese È stato fatto per manipolare il mondo Tranne che la Cina Quindi Dice Non so se è una leggenda Oppure no Che tutto il mondo Fanno vedere Video Tiktok cinese Non è scaricabile per noi Fanno rimbambire Essenzialmente Il popolo Loro hanno Roba educativa Mi è capitato spesso Di vedere Persone di etnia cinese Nei vari negozi Che facevano le live Anche proprio In negozi Non loro Dove vendevano prodotti vestiti Nella maggior parte Non so se vi capitano Anche quei video Coreani Giapponesi Fanno vedere quelle cose Inutili ma utili E ti fanno sentire Il bisogno di comprarle Perché ti dimostrano Proprio il prodotto Quella vendita così Che può sembrare a noi Una cosa inutile In realtà è importante La semplicità Per vedere le cose Alle persone Quindi Ho preso spunto Anche un po' da lì Senti Ve l'ho fatto una domanda Al momento Quanti oggetti Hai brandizzato? C'hai anche la marty bag Vero? Sì no Tipo Cover, pellicole Cover, pellicole Accessori Power bank Adesso arriveranno Tanti altri prodotti Anche più elettronici Non solo cover e pellicole Quindi Io ho promesso alle persone Di far vedere Che il new marty Non era solo questo E tanto altro E quindi Questo lo posso far vedere Tramite i miei prodotti Quindi Stanno arrivando prodotti Davvero bomba Forti Comincipi qualcosa? Cuffiette Caricatori Power bank Sono già arrivati Però tutti in mondo Diverso Ognuno ha la sua potenzialità Una cosa Quindi faremo tante Tante belle cose Tutto quello che rientra Nella nicchia Accessori Comunque lo stiamo facendo In poco tempo Quindi mi serve tempo Per fare 2024 Sarà un bell'anno Per me Faremo tante cose belle Apriremo tanti negozi Quanti? Esatto Quanti ne apro Quanti ne aprirai? Quanti ne aprirai? Per quest'anno Abbiamo in mente Quattro Cinque aperture Al momento ne hai due Vero? Ora ne ho due Dove Ci puoi spoilerare le città? Vabbè ovviamente città Che Importanti Come Milano Roma Firenze Poi devo andare anche al sud Sicilia A Pescia? Sì ragazzi Voglio fare Dai ci serve Qui a Pescia E quindi Stiamo progettando Nove aperture Piano piano Hai Non lo so Magari non nell'immediato Però Hai in mente anche di Espandere l'attività Al di fuori Dei territori Sì questo è il mio sogno proprio Tipo Europa O anche proprio Oltre? Si inizia con l'Europa Poi se va bene anche all'estero Perché comunque Tra tutti quei follower Che hai Immagino che hai Un enorme seguito Anche al di fuori dell'Italia Sì all'estero sì molto Vengono persone a tutto il mondo Veramente nel negozio A proposito di questa cosa Ma per Ora magari forse il tuo padre Che ne saprà di più Però se avete ricevuto Offerte di espansione Dove magari aziende vogliono No al momento no Al momento no Si sono Ci sono affiancate No nel senso Ci hanno fatto proposta Alcune aziende Che già sono all'estero Ecco come vi ho detto prima Ci sei tu Facciamo questo per te Ah ok Cioè il tuo volto Su quella roba lì Ma non che magari un gruppo Ti dà una mano ad aprire In altri posti Vabbè mi devo ancora far conoscere Ma chiaro Certo Diciamo che sei sulla strada Sicuramente giusta Ma una curiosità Dal sito online Arrivano tanti ordini Da persone dall'estero Certo Ora sono arrivati ordini Dall'Arabia Saudita Dall'America Dalla Cina Dalla Corea Spagna Germania Svizzera Da ogni dove Ordinano Assurdo comunque Per me è bellissimo Proprio una soddisfazione Guarda qua i miei prodotti Dove stanno arrivando E un'altra domanda Off topic Sempre perché sono curioso Se si può dire Se hai detto Quanto vende il sito online Ma il negozio Quante pellicole vende al mese Per avere un'idea Penso sia la stessa cosa Del sito online A volte anche di più Dipende dal periodo Quindi Proprio numero di pellicole Non parliamo di fatturato Numero di pellicole Raga Arrivano giorni Che mettiamo pure 2000-3000 pellicole In un giorno Wow Sì In un giorno E quanti siete a mettere Queste pellicole Quattro Wow Wow Raga io quando parto Ti fanno male le mani Il fine giornata La notte vai a letto Metto la musica Non sento niente E metto pellicole No raga Così ve lo giuro E poi è bello Venire nel mio negozio Cioè il cliente Il cliente però Vede tutto live Non è che ti lascia il telefono Se gli ci torna No vede tutto live Il cliente entra Va a fare lo scontrino Con la preparazione C'è una ragazza Che gli prepara i prodotti E poi Mette tutto in coda a me Vabbè poi ha visto Alla fine Quanto tempo hai cambiato E vanno via Fai i veloci Ma non ti è venuto Un po' annoia I negozi sono ancora più veloci Non ti è venuto Un po' annoia Dopo un po' metti così Tanti pellicole È monotona come cosa Però è bello È bello Mi diverto Mi dà gioia Vedere tutte quelle persone Che vengono a trovarmi Senza quelle persone Ad oggi non sarei qui Quindi io È una soddisfazione più grande Vedere bambini felici Genitori felici Quando li accompagnano Ragazzi che ti prendono Come fonte di ispirazione Non lo so Come spunto Anche per il loro futuro Quindi È una cosa così bella Così importante Non ha valore Non ha prezzo Ma si vede comunque Che hai passione In quello che fai Anche perché Senza di quella Non saresti dove sei adesso L'ultima domanda Poi ti lasciamo andare Dove si vede New Martina Tra dieci anni Domanda difficile Lo so però Voglio diventare La donna dei miei sogni Forte Che non ha bisogno Di nessuno È È una persona Che può aiutare Può raccontare La sua storia E può spronare Tante persone E può dare lavoro A tante persone Così mi vedo Questo è quello Che voglio Dal mio futuro Un po' di danza Anche visto Un po' di danza Qualche balletto Sì ci sta Grazie mille Carmen Allora guarda Io lo so che magari Non ti piace farlo Però devi Perché visto Abbiamo l'autografo Di tutti i nostri ospiti Quindi ti chiedo Non proprio tutti Ma insomma qualcuno Quelli che sono venuti qua Quelli che sono scordati Scegli la tua doga preferita Qualcuno Sì come vuoi Firmaci il mio Martina Vai Scrivi Carmen Poi magari noi Se lo dimentichiamo Un bel coricino Per Walter Ecco qui Grazie mille a Carmen Grazie a voi Per essere stato a noi Grazie a voi Per avermi invitato Sono un piacere E ricordate ovviamente ragazzi Di iscrivervi al canale Di ovviamente seguirci Perché ci saranno Tantissimi altri episodi E noi come sempre Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao a tutti È morta a terra È morta a terra Sì Come hai fatto a prenderla Guarda Tagliamo per gli animalisti Non lo so È morta a terra È partito No secondo me Ragazzi No no non è morta No no Ma secondo me Cioè te hai preso La mosca ha sette vite Siamo fermati Anche la mosca Mettiamo un 58 Metti il 58 Gaia Nello schermo Quello più alto Per favore No vediamo